Game mod creative Ehi! Posso farlo! Perché in questo mondo di Minecraft posso utilizzare qualsiasi tipo di trucco e comando Vabbè, adesso torniamo in adventure, se no che senso ha Regole! Puoi utilizzare qualsiasi comando tu voglia quando entri nella prima stanza Sii creativo! Per esempio, puoi riempire la stanza di TNT e accenderla Buona fortuna, non ci sono altre regole, divertiti Fantastico! È sempre stato il mio sogno poter iniziare una mappa di Minecraft Dove le regole ti dicono che puoi praticamente barare Ok, mettiamo in pratica tutti i comandi che conosco Quindi la missione è ottenere questo blocco di legno Beh, se posso utilizzare tutti i comandi che voglio è semplice Mi basta fare slash give colui che osserva oak log Ed eccolo qua ragazzi! L'ho ottenuto, infatti si è sblocchiato il secondo livello Bene, bene, bene Adesso la missione è oltrepassa questo ostacolo, quindi vai dall'altra parte Beh, allora, tecnicamente io posso anche teletrasportarmi, giusto? Quindi mi basterà fare TP Poi, qua siamo a X16, facciamo X20? No, ah, X20 mi porta indietro, allora sarà X10 Ah, ce l'ho fatta! E si è sbloccato l'altro livello Ora dice, uccidi il pigman Potrebbe essere anche abbastanza semplice Mi basterebbe semplicemente riempire tutto di TNT, giusto? Quindi summon, TNT E mettiamo le coordinate del pigman Quindi così Oh! L'ho ucciso? L'ho ucciso! E a quanto pare quando rompi i blocchi si rimpiazzano con la TNT In modo da non distruggere tutta quanta la mappa Fantastico! Quindi stiamo andando avanti alla meraviglia Ok, allora, avanza oltre il tunnel di ragnatele Di certo non lo faccio normalmente Cioè, non lo faccio camminando Anche perché c'è la sabbia delle anime e ci sono le ragnatele Ci metterei un anno Vediamo però, secondo voi, quanti blocchi sono di distanza? Diciamo 12 forse? Sì, penso 12 TP Meno 5 Oddio, spero sia giusto Spero sia giusto No, proviamo con 10 No, troppo Proviamo con 5 Ok No, ho proprio sbagliato Dobbiamo mettere 10 qui Oh! Oh! Oh mio Dio, ce l'ho fatta ragazzi! Sono riuscito a oltrepassare Le ragnatele con i comandi E porca miseria, stavo per morire Eeeh E cosa devo fare adesso, scusa? No, e ce l'ho fatta Oh! Ok Metti un anvil all'interno dell'hopper Ok, beh Semplicissimo Niente di più facile, direi Give colui che osserva anvil Perfetto Tieni Oh, aspetta Forse devo metterlo proprio dentro, così Ecco No Ok Non sta funzionando C'è scritto Metti Non c'è scritto Metti un anvil Metti l'anvil Quale anvil? C'è una pressure E qua che c'è? Ok C'è un'altra pressure plate Devo lanciarmi No, aspetta È una pressure plate di quelle pesanti Se tiro un oggetto pesante Dovrebbe attivarsi, giusto? Vediamo Ok Se riuscissi a prenderlo magari L'oggetto, dai Ce la faccio? Perfetto Oh! Ecco Mi ha dato l'anvil Lo metto qua dentro Ah, aspetta Può essere piazzato su blocchi di quarzo No, 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 no Mi ha detto di metterlo nell'hopper Io lo metto nell'hopper Ecco, ok Ce l'abbiamo fatta Si è aperto il nuovo livello E mi dice di dormire nel letto E perché mi dà il crafting di una spada, scusa? Beh, allora In realtà Non è molto difficile Mi basta semplicemente fare così Guardate Slash fill Aumentiamo di un blocco di altezza Quindi slash fill così Poi di nuovo 101, 34 Minecraft bed Mettiamo un letto Qualsiasi Oppure tipo bianco Bianco No Ok, non me lo fa piazzare Ci deve essere un altro modo Oh, aspetta Io c'ho Io c'ho della legna Ok, ho capito Mi serve la lana Certo, mi serve la lana E come faccio ad ottenere la lana? Rompendo queste Devo rompere le cordicelle Per craftare la lana Eh, però Dov'è la crafting? Scusa Aspetta, ho capito Devo tornare indietro Quindi se questo era 10 Metto meno 10 Perfetto Ce l'ho fatta Sono un genio Sono un genio Qua dietro dovrebbe esserci La crafting E infatti Mi ricordavo bene Ci craftiamo Una spa Ma sono stupido Ma cosa sto facendo? Non c'ho bisogno di fare tutto questo Mi basta fare Slash give Con lui che osserva Ecco 1, 2, 3 E 4 Vabbè Se non altro mi serviva effettivamente Tornare indietro Ok, abbiamo il letto Ma Ok, può essere piazzato sui blocchi d'oro Fantastico Senti, sai cosa? Jump boost Per 5 secondi Mi do 5 Ok Perché complicarsi la vita con i comandi Quando puoi semplicemente darti un jump boost Allora, questo qui invece era più 10 Oh, ce l'ho fatta Oh mio dio Questa mappa è bellissima Ok, ora devo andare qua E piazzo il letto Buonanotte Fantastico Ok, prossimo livello Si è sbloccato? Sì Accendi la lampada di Redstone Che presumo si trovi lassù Ah, ok Mi da... No, ho capito Cosa vuole che io faccia Vuole che io faccia crescere un albero Su un albero Su un albero Per arrivare fino a là E se io invece utilizzassi Semplicemente L'astuzia Secondo voi Quanti blocchi d'altezza saranno questi? Io dico Mmm A occhi croce Forse 30 Vediamo Allora Sono qua, eh Quindi TP Adesso 130 Di altezza Anziché 100 Perché io sono al livello 100 Quindi il livello terra è 100 Vai No Mi hai riportato giù Quindi ho sbagliato qualcosa Proviamo 120 Oh Quasi Proviamo 125 Ah Ce l'ho fatta Quindi l'ho accesa? Sì Ok La prossima missione Ottieni un diamante Ottieni un diamante Mi da Delle Aspetta No, no, no Scusa Fermi, fermi, fermi Give Colui che osserva Diamond Or Ok Ah Non posso? Ma come? Ma scusa Pensavo di poter ottenere Qualsiasi cosa volessi Invece no Evidentemente Ok Questo lo dobbiamo fare Normalmente Quindi come vuole lui Ci ha dato dei libri looting Una spada E cos'è? Lo devo ottenere dal blaze C'è anche Ok Ok Ho capito Sapete cosa faccio adesso ragazzi? Mi do Un milione di livelli 4732 livelli Per l'esattezza Uniamo tutti questi libri Così facciamo un looting Super potente Ok Io voglio altri libri però Eh Però non mi ricordo il codice Vabbè Fa niente Adesso li uniamo E abbiamo looting 3 Bam Spada con looting 3 Quindi io ora devo Ok Ho capito Ho capito esattamente cosa devo fare Cioè mi stai dicendo Che in questi blaze Si trova un diamante Non è possibile Oh ma porca miseria Ma ci muoio così? Ecco Ma almeno adesso siamo protetti E dai No Quanti ne devo spawnare Per ottenere Ma no Ma non così Stupido blaze Tu ti credi più forte di me? Nederite 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 Elmetto E mi do anche una Fire resistance Infinita Voglio proprio vedere adesso Come farai ad uccidermi Stupido Blaze Dai Toglimi anche solo un cuore di vita Ok ce la fai A togliermi un cuore Perché la mia armatura Non è incantata Però Non importa Me lo dropperà Prima o poi Questo diamante O Devo restare qua un anno Beh effettivamente c'è scritto Che è un drop raro Ma Non pensavo così tanto raro Oh mamma mia Mi sa che devo stare qua Veramente un anno Non c'è altro modo per ottenerlo Cioè lui vuole che io Lo trovi attraverso I blaze Quindi avrà modificato Non lo so Le meccaniche di gioco Le regole Evidentemente i blaze Possono droppare I diamanti E dai però Oh Me l'ha dato Me l'ha dato Ma non me l'ha fatto tenere Cioè dopo tutta questa fatica Non mi fai neanche tenere il diamante Ottieni l'avanzamento A furious cocktail Oh no No ragazzi Questo so qual è In pratica su minecraft C'è un avanzamento Che per ottenerlo Devi avere tutti gli effetti negativi Tutti nello stesso momento Quindi devi avere Tutti gli effetti di minecraft qua Tutti i contemporanei Ma che cavolo dico Ma chi se ne frega Non devo mettermi a fare le pozioni Mi basta fare Advancement Grant Colui che osserva Ma si facciamo tutto Oh no Oh porca miseria Ok Bene Adesso mi darà praticamente Degli avanzamenti Per tipo Cinque minuti Probabilmente Però se non altro L'abbiamo completato Oh mamma mia Divento sordo così Scusa eh Ok L'abbiamo completato No E' stato un errore E' stato un grosso Grosso errore Eh Vabbè ragazzi Che facciamo Ci rivediamo Non appena Finiranno gli achievement Ovvero tra un'ora Ripensandoci Potevo semplicemente Darmi l'achievement Che mi chiedeva lui E basta Non tutti Vabbè Oh Sono finiti Scusate Mi ero addormentato Allora quindi Conta quanti diamanti Ci sono all'interno Di questo cubo Se E quindi sono anche All'interno Probabilmente Ok 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 Ehm Ah poi mi da un foglio di carta E devo mettere la risposta giusta Se dovessi provare a indovinare Direi che Probabilmente sono 64 Perché il creatore della mappa Mi sta trollando Però Ci deve essere un modo Per ottenere Ah Vediamo Posso tipo Rimuovere tutti i blocchi Tranne i diamanti Oppure Aspetta Give Colui che osserva Nederite Mi prendo un bel piccone Nederite Ok Quindi io posso Cosa c'è in questa cesta Uh Ah il piccone c'era già Ok Ehm A quanto pare Posso rompere Qualsiasi blocco Anche i diamanti Quindi se riesco a rompere Tutta questa struttura Riuscirò A vedere quanti diamanti c'erano Allora O incanto Questo piccone al massimo Oppure No meglio ancora Fermi Effect Give Colui che osserva Haste Mi do haste al massimo Per 250 secondi Me lo do proprio al massimo 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 Siete pronti? Oh mio dio Wow E' bellissimo ragazzi E' bellissimo scavare in questo modo C'è Neanche in creativa Neanche in creativa C'è ragazzi guardate Non devo fare assolutamente nulla E tra non molto sapremo quanti diamanti ci sono qua dentro Perché tecnicamente li dovrebbe droppare tutti no? Quindi dovrei riuscire ad averli nell'inventario Distruggi 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 Eh ce n'erano un bel po' Secondo me ho ragione io ragazzi Secondo me è uno stack Vediamo 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 Qua c'è un altro diamantino Ce ne sono altri qua in giro? No Ho la bellezza di 59 diamanti Beh quasi uno stack Quindi rinominiamo questo foglietto in 59 E lo inseriamo qua dentro Ho completato la mappa? Sì Ce l'ho fatta Fantastico Ragazzi Mi raccomando Lasciate un super mi piace se vi è piaciuto questo video Io mi sono divertito tantissimo A barare e cittare in questa mappa Però vi ripeto eh La mappa doveva essere finita in questo modo Ah comunque la mappa potevi finirla anche senza i comandi Ah Vabbè non lo sapevo Dal vostro canale è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao